Buonasera, con questa bella spegnellata, per iniziare a ricordare a fare questo dibiuto con Matteo Salvatore, ci sta bene un bel bando. Popolo del Paese, sentite, 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 per ordine di sua eccellenza, l'umodestà è proibito a i appesciambacciari mura che hanno fatto un ricorso all'assessore degli guardi, e l'assessore degli guardi l'ha dita a Luqueva Guardi, Luqueva Guardi l'ha dita a Luqueva Scupador, Luqueva Scupador l'ha dita a Lu Scupador, Lu Scupador l'ha dita a Luvice Scupador, Luvice Scupador l'ha dita a me, e io lo dico a voi, questo casino passate di carabinieri, tagliate la guerra e ve fa morire, ve fa morire, ve fa morire, se la vita capisciuta, la vita capisciuta, se la vita capisciuta, non capisciuta